Serve qualcosa non lo so devono fare qualcosa dopo domani secondo me non fanno un cazzo ma che sta lobby? Oh boy italiana Ho venduto il culo per per giocare le group one senza zone rule e ora Darker a fare le rapine con rankings rage Non penso ormai Perse il landing grazie ho perso il landing con questi due ho perso il landing con questi due per colpa di questa puttanata C'è un altro lì arrivo Qua dentro dov'è sopra i teizi Arriva 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 Oh io ho in canna quale d'acqua quale d'acqua scusami Dove sono gli altri sono qua sono qua sono qua sono qua stanno cercando di scappare Va vai riprendiamoli Vi succiamo 28 bianco 27 Mortici morti Toccato Uno lo so che ne salisce a montagna Ok lo succiamo Ma sta facendo un giro che volevo Perdere tempo stacente Vabbè così poi noi andiamo a lotare No allora lootano retail noi andiamo a fare questo vai Andiamo andiamo Ma ci fotte il loot di là Eh a posto lo andiamo ad ammazzare Con il PR con il PR giorno 9 in canna Tieni lasciatemi È il massimo che posso darti Dovete sbrigarvi regà eh Ah prendete solo le casse Se a me avanzano anche i mini qua ce n'erano 4 Posso prendere 5 Pingali pingali Ah non avevo che scusa Ah scherzo io ho appena trovati R verde qua e due mini smaghi Bisogna sempre passare verso poi il middle zone se riusciamo Eppure nel fidone eh Guardate che non si può sparare eh Piesce prenderlo Ah vino Cazzo Bene o male che me l'hai detto zi Eh hai fatto benissimo Se no stavo già la sera alle persone io Mini Mini al lanciarazzi Chi può prendere il lanciarazzi E anche io c'è un'ed Prendo io Come vedete un team fermatevi Facciamo così Ah ma ne abbiamo già tanti attorno No appena lo vedi Appena vedi C'è abbiamo un team a sinistra Ti dovresti boxare ora Boxati E va Come noi faremo così Faremo così regà Sì sì hai ragione Cioè In realtà io mi accentrerei Però esatto Nella realtà dei fatti Ma un po' La casa Un po' ti accentri Però non riesci Cioè vieni sparato La casa La casa Ah comunque giù D'ora in poi Non vogliamo più fare il doppio box Sopra per le naves In pratica ci mettiamo box E ognuno di noi guarda C'è tipo uno ovest Uno est Uno sud E uno nord E bisogna vedere le naves Bene Organizziamo Perché non spreco di mazzi In modo Nessun pro lo fa Praticamente Nessun Grande l'albero Ok dobbiamo andare Siamoci Non fai Tiamo Non fai Tiamo Che cavolo Niente per nani Niente per nani Sì Belle nate di merda Docs player Facciamo le nate Quelli ci vittiamo da loro Facciamo le nate Facciamo le nate Fate il box Splittage Maggi Ok Va bene Qui 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 a posto Riguarda Gli tiro un razzo Gli tiro un razzo Per mettergli paura Splittami Stenade Dammele Vai ci sono 3 2 1 Vai 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 Non si può sempre Alla tanto tempo Prendete il resto Prendete il resto Ho preso la kill Pusciamo Pusciamo Tanto dietro Stanto dietro Ho chiuso Ho chiuso Ti volete box Carico il razzo Io lo tiro Dimmi dovevo tirare il razzo Dimmi dovevo tirare il razzo Visti Gli fanno granate Fermi 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 Non pusciate L'ha nettato L'ha nettato Io non ho nel box Sto accanto Che è stato un merda Volete che vengo Volete che vengo Rimango dietro Rimani Riesci a tenere un haigio Sì c'ho un haigio Rimani lì Ok Sto vendo stammato da tutti Eh tipo a sud-est Eh c'ho izzi Mi dispiace mi hai coperto Mecchi mi sa che ne abbiamo Uno sopra No sono io Sono io No 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 uno sopra Di un box Sparo sparo Ha annoccato quello là Ha annoccato quello là È nato sotto Vieni vieni Vai È di pronto a me Sono con te Lascio l'haig Lascio l'haig In box Ah è salito È salito Merda Dove Ma chi sono con te È sopra Sta crancando Sì 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 Fatelo vedere Sopra di me Sopra di me Non potete buildare No esatto Che cazzo sta buildando Mi hai fatto cadere a me Attento Perché Comunque no Secondo me Guardami Mi ha preso Grazie Vado sotto Vado sotto Fammi andare sotto Di qua Di qua Da izzi Da izzi Da izzi Apri Vado sotto Non posso passare Non puoi rompere Non puoi rompere così Quando sei a centro zona Non puoi Non puoi Mi hanno laserato Mi hanno laserato Sì Prendiamo quelle Dove sono i materiali extra Sono cildone Sono cildone Ci sono tre Accanto Lascio Lascio i flopper Per qualcuno Prende i flopper C'è gente Eh sì Tato Ma se vuoi mazzo Sono sotto Ritera Oh da me Da me L'ho caricato Ok Ma dov'è È mezzo morto Non lo so Mi tiro un big Tieni Schmacky prendete il big Schmacky prendete il big Raga è messa extra Dove sta Sotto sotto Proprio All the way low Riga posso giocare Come una partita serie Ma chi sta facendo Porca Io sono venuto ad aiutare No 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 Vecchio dico Allora Ok Accentriamoci Adesso Ci sono Mazzecco Quanti ce ne sono Qua E questo Sì ma aspetta un attimo Aspetta un attimo Sono con te Schmacky 200 di legno Lo devo prendere io Dato Diccio 33 Dato Arrivo arrivo Non c'è il ping Non si è andato Ok Chiudo Oh c'è lo dietro uno C'è lo dietro uno Bisogna mano Arrivo arrivo Quindi va Ok Stabil Fai davvero Sì non so Per quello motivo Qualcuno mi sta sparando Chi è con l'smg Porco 2 Uno è morto Abbiamo la finta Per la finta Ok Abbiamo un botto di Mazzecco E 540 Dai è dentro il mio box Ma Morto 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 Passate trollando Comunque dietro di noi Su destra Abbiamo un team Che potenzialmente Potrebbe volere L'AIG Sì l'ho vista Su destra Gli voglio Spaccare quella struttura Di merda Gli tirate un razzo Io non ce l'ho Forse ce l'ha Izi Dove Io ce l'ho Izi hai col PR Per me Col AR Gli ho dati I 1000 Vai lascia 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 Ho rischiato Vero Comunque mi metto dall'altra direzione Sì Ma arrivo pure io Ok No ma troppo Tieni d'occhio loro dietro Va bene Io non ho una R Mi stanno mirando Da dove? Mi sai dire Il cecchino Zero Io non voglio Zero Quanti ne hai? Io ho tre Ma in AIG Che cosa stanno a fare Lì sopra? Ma niente Letteralmente Ma sono scesi Buona serato Può tirare un razzo lì Ci avete i razzi Fate doppio razzo lì Fate doppio razzo E ne parte uno Chi l'ha tirato? E' spam Vado a collegare Rimango in AIG Io con Pizzo Ok Io sto spammando Tutti Ma ci stanno facendo cadere Fatto Non cado Non cado Non cado Ti ha sparato a te Sta là Sta là Non lo devono lasciare Ragazzi Non ti sento Io stai Dai E i tanti 216 Ti hanno fatto cadere Sto scendendo un pelo Slopper 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 La serati La serati È un pad player Quello Di trappolo Noccato Noccato un altro Noccato un altro No Merda Peccato Holdo 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 Collega 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 Serve che Serve che Tira dei razzi Lì Regà Serve che Tira dei razzi Al mio ping Razzi Al ping Grazie Fatto un altro Vieni da me Vieni da me Vieni da me Vieni da me Tendo a prendere Un po' di chiesa Non troppo agro Non troppo agro Ah ma siamo Quattro V3 Aiuto Trovo io Torno E' mio il muro E' mio il muro Ma cos'è 3v1 3v2 Qua C'è una calciatrizia Sotto di me Assurdo Game Qua Come quello Che abbiamo Fatto ora C'è il problema Che vedo io Alla pretutto Nessuno veniva A contenderci Like Nessuno Aveva il lanciarazzi Nessuno Tutti che buildavano Mattone In metallo Nonostante magari In quella fase Del game Nei poco Altro Ti Trolli Trolli Grazie a tutti.